Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Checco, io sono Raffo e oggi siamo qui in questo vlog per delle novità sul canale in cui abbiamo pensato praticamente di cambiare nome perché vorremmo cambiare anche genere di video oltre ai gameplay, vorremmo portare video diciamo sui scherzi, scherzi telefonici, roba divertente quindi scrivetelo qui sotto nei commenti, abbiamo pensato di farvi partecipare quindi dovete scrivere nei commenti secondo il nome adatto al nostro canale e se ci vanno a scegliere il migliore, quindi vediamo un po' come va poi dovremmo parlare di un nuovo admin, quello che è uscito dal video precedente Francesco, che collaborerà insieme a noi, quindi farà nuovi video, gameplay e presto porteremo anche The Last of Us proprio insieme al Mimicosa quindi che dire quindi ragazzi il video può finire qui, mi raccomando i commenti, consigliateci qualche nome mi raccomando, mi raccomando mi raccomando aiutateci poi sarà, vabbè, lo citiamo nel video colui che avrà il nome più bello sì, poi lo diciamo ovviamente, chi, vediamo quale scegliamo quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando condividete anche e noi ci vediamo al prossimo video bella 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 bella